Un sistema, lo chiamano i magistrati, di dominio sulla sanità lombarda. Chi si voleva rifare i denti nel pubblico doveva passare dalle aziende di Maria Paola Canegrati, arrestata stamattina, zarina dell'odontoiatria Brianzola, che da almeno 12 anni, secondo l'accusa della procura di Monza, con appalti cusciti su misura, aveva preso l'esternalizzazione delle cure dentarie in un gruppo di ospedali e di cliniche convenzionate con la regione. I garanti del sistema, secondo gli atti, negli ultimi anni erano due, portati in carcere oggi. Uno è Fabio Rizzi, consigliere regionale della Lega Nord, presidente della Commissione Sanità a Palazzo Pirelli. Un uomo forte del governatore Roberto Maroni, che ha ancora l'interim della sanità in giunta e aveva affidato proprio a Rizzi la riforma del settore, in rotta con l'ex assessore Mario Mantovani, anche lui arrestato a ottobre. L'altro è Mario Longo, l'assistente di Rizzi, collaboratore del progetto di odontoiatria sociale. Negli atti si legge che i due sono asserviti all'imprenditrice e hanno fatto del potere politico lo strumento per accumulare ricchezze. L'imprenditrice dice, insomma, se continuano a comportarsi così, quando le cose non vanno bene, dice metto di mezzo la politica. Rizzi, secondo l'accusa, ha pagato la campagna elettorale del 2013, almeno in parte con i soldi dell'imprenditrice, dice che al consigliere leghista e al suo collaboratore avrebbe versato una tangente da 50.000 euro. Con la imprenditrice Rizzi e in società indirettamente, le compagnie di Longo e Rizzi rinchiusi ai domiciliari da stamattina hanno quote in un'azienda partecipata da una ditta sempre della Canegrati. Tu come fai con i pezzettoni da 500 che hai su in mansarda? Così chiede la compagna di Rizzi al politico leghista perché la banca le rifiuta il versamento di biglietti di grosso taglio. Rizzi, secondo le intercettazioni, ha 15.000 euro in contanti in casa, i soldi gli servono per pagarsi il mutuo. In questo sistema truccato ci rimettono gli imprenditori onesti, tagliati fuori da le gare, e soprattutto i pazienti, spinti a ricorrere al regime di solvenza negli stessi reparti degli ospedali perché la lista d'attesa nel pubblico è lunghissima. Li mandiamo alle calende greche e gli facciamo pagare il ticket un euro in più della prestazione privata, secondo quello che si legge nelle intercettazioni. Ai malati può andare anche peggio, agli atti ci sono le dichiarazioni di un ex primario di un ospedale di Milano. Una paziente con un tumore del cavo orale, secondo il dottore, è stata curata a pagamento come se avesse un fungo da un medico che poi è diventato direttore sanitario del reparto appaltato alla Canegrati. L'ex primario che ha denunciato il caso è stato rimosso dall'incarico e la paziente è morta.